Benvenuti a meteogiuliaci.it. Nuovole qualche pioggia venerdì al sud per il passaggio della perturbazione in arrivo giovedì sul nord Italia. Freddo e vento sempre venerdì su gran parte dell'Italia per l'arrivo di un nucleo d'aria fredda dal nord Europa il quale valicherà le Alpi poi portando venti di fenne sulla regione di nord ovest. Ma vediamo l'immagine del satellite virtuale vedete le nuvole che seguono il nucleo d'aria fredda in arrivo dal nord Europa. Bene che tempo allora farà venerdì vedete sereno su gran parte del nord e sereno campagna Abruzzo Molise molte nuvole al sud con qualche pioggia su Foggiano sulla bassa Calabria nord della Sardegna ovest della Sicilia nevicate sulle Alpi di confine fino a bassa quota. Le temperature massime previste per venerdì valori intorno 5 7 gradi al nord 7 11 al centro 9 13 al sud e sulle isole maggiori. Bene termino qui vi ringrazio per l'ascolto ancora un buongiorno.